Bentornati a tutti e continuiamo ad imparare nuove parole. Qui c'è un apparecchio dell'Aerosol. Dove si comprano gli apparecchi dell'Aerosol? In farmacia o in farmacia o nella parafarmacia. Come si usano? Questo è formato da una base e dall'apparecchio per fare l'inalazione. Si apre, si prendono le fialette, si agitano, si apre la fialetta e si mette la quantità necessaria. Queste sono fiale. Si chiude e si accende dal pulsante. Su 0 significa che l'apparecchio è spento. Su 1 comincia ad inalare. Alla prossima!